Un encomio a tutti gli chef, ma c'è uno in modo particolare che ci ha sorpreso, anche perché il fresco di scuola di Copenhagen ha saputo assemblare il territorio con tutto ciò che ha imparato all'estero e non soltanto. Quindi noi lo proclamiamo chef dell'anno, vorrei averlo qui, e Alessandro Giraldi, ristorante 5 cucchiai di paese. Vi ringrazio tutta la Martina, insomma, ha dato massimo a tutta la famiglia Bucci, che ci ha dato la possibilità di mettere in pratica tutte le idee e anche tutta la brigata, perché dovrebbe essere brigata dell'anno più che chef dell'anno. Quindi ringrazio tutti i miei ragazzi della cucina, anche della sala del ristorante, per crederne al progetto. Ringrazio veramente col cuore Alessandro, in primis, la passione che ci mette in questo lavoro. Quindi il premio è tutto assolutamente il suo e giustamente è vero anche della sua brigata, dei suoi ragazzi che nominiamo, quindi Fabrizio, Stefano e Michael. Noi speriamo di continuare così, sicuramente sempre meglio, con altri successi. Quindi here we go, come si dice. Work in progress. 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 Work in progress.